volevo farvi un indovinello per chiedervi secondo voi cosa cambiava nello scenario qua di sottofondo ma quella lampada lì l'avete già vista perché era nel titolo dunque premetto che non è una mia creazione è un progetto che ho preso gratuitamente che potete prendere tutti su team givers vi lascio poi link in descrizione il produttore di questo oggetto è uno molto molto in gamba esiste anche un tutorial su come fare queste scritte su come disegnarle su come progettarle con fusion 360 ma è già fuori dalla mia portata quello che ha la mia portata è farvi vedere come scaricare questo file come andarlo a stampare ci sono due o tre magagne da tenere in considerazione con la stampante 3d vi faccio vedere poi come si monta e il risultato finale è veramente una bomba sul sito trovate già tre o quattro modelli di queste lampade pronti da scaricare io ho scelto il modello boom che secondo me lì ci sta a pennello fatemi sapere cosa ne pensate andiamo col video che vi faccio vedere un po tutto il procedimento premetto che in molte fasi non riuscirò ad essere molto preciso a farvi vedere tutti i passaggi perché purtroppo io ho ancora il tutore la clavicola spaccata quindi sono molto limitato nei movimenti spesso mi sono fatto aiutare non riuscivo a girare le clip al meglio anche in questo periodo un po di difficoltà cerco comunque di portarvi qualche contenuto interessante andiamo col video perfetto questa è la pagina del progetto o seguite direttamente il link che c'è nella descrizione o basta andare qua nella casella di ricerca del sito tingvers e cercare semplicemente boom riusciranno fuori un po di progetti tra cui questo troveremo già il collegamento al video del dell'ideatore dove fa vedere come realizzare queste scritte con software fusion 360 vi da anche già direttamente un po di formazioni e un po di link su siti cinesi per comprare il materiale necessario ma io vi farò vedere direttamente cosa serve a noi perché io lo realizzerò in una variante leggermente diversa da questo andiamo a scaricare i nostri file una volta scaricati nella cartella download troveremo questo file che si chiama led mark boom all'interno dell'archivio compresso troveremo le solite due cartelle files e image nella cartella file troveremo tutti i progetti divisi lettera per lettera perché ogni lettera avrà un stl che sarà a sua volta suddiviso in due perché ci sarà il file nominato ex che si intende la struttura portante della lampada e il file nominato in che sarebbe interna che è la copertura bianca per diffondere la luce quindi avremo due file per la b due file per la m e due file per ogni o o 1 e o 2 del punto esclamativo avremmo una struttura e due coperture perché la linetta è separata dal punto ovviamente poi potrete andare a stampare insieme prima cosa che facciamo apriamo il nostro slicer io in questo caso uso idea maker che è gratuito e che consiglio sempre a tutti quanti molto molto semplice da usare del nostro archivo prendiamo ad esempio la lettera b esterna e la importiamo vedete che ad esempio questo file viene riconosciuto con degli errori perché c'è uno spigolo non a contatto una bella funzione di idea maker e ripara questo tasto qua premendolo lui automaticamente sistema l'estl vedete come è composta c'è una struttura principale ci sarà sempre un passaggio tra una lettera e l'altra per far passare la strip dei led e sarà su due livelli dove questo livello più basso sarà quello dove incolliamo la strip e questo livello più alto sarà quello dove andremo a incastrare la copertura bianca viene riportato questa doppia altezza anche all'interno ma solo per appoggiare la copertura non è necessario andare a mettere i led anche qui ma questo lo vedremo più avanti dopodiché io consiglio sempre col comando sposta di portare la lettera più possibile vicino a un angolo perché al centro come ben sappiamo il piatto potrebbe avere qualche difetto potrebbe essere leggermente concavo o convesso e adesso passiamo a quelle che sono le impostazioni dunque come impostazioni niente di particolare rispetto a quello che stampate normalmente con del PLA a differenza ad esempio delle pareti perché io in questo caso consiglio di usare solo due pareti un'altezza di 0,2 va bene e come riempimento io te lo terrei molto molto basso terrei un 5% con il 5% viene un riempimento del genere che comunque garantisce un minimo di struttura alle nostre lettere perché calcolate che con un riempimento del 5% con un layer impostato a 2 una lettera del genere impiega già 6 o 7 ore per essere stampata se volete una struttura ancora più robusta potete aumentare ma chiaramente i tempi di stampa aumentano considerevolmente io ho provato con 2 e 5% la lettera comunque è venuta la struttura tiene certo non è che dovete caricarci sopra chissà quale peso se la volete più robusta potete anche riempirla al 100% perfetto facciamo la stessa procedura per ogni lettera mandiamo in stampa secondo me prima tutte le strutture ovviamente il colore non è importante potete anche stamparle diverse per far fuori del PLA magari avanzato e poi dargli una verniciata finale io per comodità le ho stampate tutte uguali in grigia 6 ore a lettera prendetevi qualche giorno di tempo e in una settimana più o meno io le ho stampate tutte avremo così tutte le nostre lettere che servono per comporre la lampada la o la prima è quella che ha questi due tagli laterali analizzando gli oggetti prodotti vediamo che c'è all'interno è anche lungo il perimetro esterno una doppia altezza per far appoggiare la copertura diffusore di luce e sul lato avremo sempre un'apertura per appoggiare alla lettera precedente e un'apertura dopo per far passare la strip come si montano dunque ad esempio la b con la prima o ha una posizione definita perché vedete viene sfalsata ma trova una posizione definita non avete possibilità di sbagliare invece ad esempio tra la prima o e la seconda o abbiamo il problema di trovare la posizione corretta perché non ha un fermo quindi scorre liberamente diciamo che la posizione corretta è comunque quella con l'uscita a filo e la parete in ingresso all'esterno stesso problema ce l'abbiamo tra la o e la m teniamo come riferimento l'uscita a filo ora passiamo all'assemblaggio colla 21 ve la consiglio la grande vi lascio il link è una colla ciano acrilica fantastica non asciuga basta tenerla in frigo e vi dura vita finché non termina il processo è molto semplice andremo semplicemente ad applicare uno strato di colla in prossimità della zona di contatto terremo esercitata una pressione per i secondi necessari a far aderire le due parti e in questo modo avremo un assemblaggio perfetto consiglio di iniziare incollando una coppia alla volta a lasciarle qualche minuto in posa bene dopo aver incollato tutte le varie parti ci troviamo col fondo della nostra bella scritta boom bello che pronto vedete che c'è un gradino dopo ogni lettera questa lampada sarà fatta per stare principalmente appoggiata sul piano ma nulla vieta di fare un paio di fori per appenderla a parete arrivati a questo punto noterete che tra ogni lettera c'è un passaggio per la strip dei red mentre nel punto esclamativo è stato previsto questo alloggiamento a slitta e questo foro circolare perché l'ideatore del progetto ha previsto di mettere qua un controller piccolino e di montare un jack a pannello qua dietro io farò in un modo leggermente diverso avevo questa strip rgb che mi avanzava a sufficienza perché vi ricordo che per fare tutto il giro ci vanno circa due metri qua ne ho quasi tre quindi cosa ho fatto ho saldato ad un'estremità un piccolo pettine a 4 pin e ho comprato su amazon questo controller costa una fesseria arriva questo piccolissimo schedino con i 4 pin l'ingresso per i 12 volt col classico jack d'alimentazione e quello che mi interessava era avere l'ir del telecomando esterno come lo monterò allargherò il foro posteriore per far passare il connettore e questo controller verrà ospitato qua dentro basterà farlo scorrere vedete e rimane incastrato si può fare in diversi modi vi linkerò diversi kit potreste usare anche quello che avevo recensito in questo video che funziona molto bene ed è comandabile anche con l'assistente vocale questo no è comandabile solo tramite il telecomando ma l'uso che ne farò io sarà gestire tutte le accensioni con un unico sonoff quindi questo controller ho già verificato che quando gli si toglie e gli si dà alimentazione nuovamente torna allo stato di prima quindi il telecomando non lo userò mai ok quindi cosa ho fatto in questo caso ho fissato il controllo sulla slitta ho allargato un po il foro posteriore per far passare i due cavi poi ho verniciato di nero una parte del ricevitore dove c'era del bianco perché andrò poi a incollarlo qua dietro in modo da poterlo comunque vedere col telecomando se devo cambiare colore o fare qualcos'altro ma rendendolo invisibile dall'esterno farò poi una piccola colata di colla a caldo qui per chiudere questo foro ma il punto forte viene adesso perché in pratica cosa bisogna fare bisognerà partire con lo strip inserito qui nel connettore e girare con tutta la strip facendola passare da tutti i fori ma cosa vuol dire farla passare da tutti i fori vuol dire che se questo sarà il punto di partenza qui vuol dire che dopo aver fatto tutto il giro il punto finale deve essere immediatamente qua di lato quindi cosa farò partirò inserendo prima la strip per poi iniziare a girare qui entrando qui passando dal foro del punto del punto esclamativo risalendo passando dal foro facendo tutto questo contorno inferiore per poi arrivare alla b e tornare indietro fin quando arriveremo alla fine per chiudere diciamo l'anello e la strip in eccesso si potrà tagliare in questo punto qui questo è il risultato finale vedete che c'è tutta la striscia che fa tutto il giro dentro tutte le lettere passa dentro i fori e riesce ovviamente non cercate di essere precisissimi nel posizionarla perché il risultato estetico finale sarà il medesimo ma se avete difficoltà di incollarla potete fare come ho fatto io ogni tanto ho messo qualche punto di colla a caldo perché il biadesivo della mia strip era molto vecchio non attaccava ma se avete una strip recente o nuova con un bond di biadesivo 3m potreste anche non avere bisogno di fare questo qui in fondo ho dovuto fermare con la colla a caldo il connettore per evitare che si stacchi vedete sono riuscito a finire anche dentro il punto del punto esclamativo bisogna fare il giro dappertutto così non è una cosa molto simpatica da fare ve lo dico ma poi dopo ne vale la pena qua dietro ho fissato l'ir in modo che non si veda dietro la m ma che mi permetta di comandarlo e qua c'è il jack ora proviamo alimentarlo vediamo se funzionano perfetto i led vanno tutti la scritta è correttamente illuminata ora non resta che aggiungere le coperture bianche e la lampada è finita per quel che riguarda le coperture bianche allora intanto vi consiglio di usare un bianco per dare l'effetto finale della copertura che diffonde la luce qui ho avuto qualche problema perché negli angoli vedete che mi facevano un po di warping mi si alzava la stampa e mi rovinava lo spicolo quindi qualcuna sono riuscito a stamparla e qualcuna no in alternativa per ovviare a questo problema vi consiglio di fargli un po di supporto intorno un po di brim in questo modo la stampa essendo molto sottile riesce comunque ad aderire al piatto e riusciamo a produrre una lettera con uno spigolo vivo abbastanza definito questo perché altrimenti poi non si incastra bene e non combacia perfettamente una volta stampata la nostra copertura con il brim intorno vi consiglio di prendere un cutter o un tagliarino qualcosa di affilato perché bisogna rifinire tutto il bordo per far sì che abbia un angolo vivo il più possibile ora non ci resta che mettere una copertura per ogni lettera basta semplicemente incastrarle dentro e stanno ferme senza scappare fuori ecco qua spegniamo le luci vediamo che effetto fa e voilà direi ottimo risultato la lampada è uno spettacolo io spero che il video vi sia piaciuto vi chiedo un bel like soprattutto iscrivetevi al canale tutto quello che serve il materiale pla eccetera ve lo lascio nel mio canale telegram i link di massidattoli o nella mia pagina amazon massidattoli tech solution io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao dalla lampada boom e da massidattoli ciao 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 ciao